Sono in compagnia di Felipe e è quanto meno singolare che nella diffusione della lingua friulana è presente un calciatore brasiliano in conferenza stampa. Sinceramente mi ha fatto ridere quando mi ha chiamato Francesco perché mi ha detto però fa piacere, fa piacere perché poi alla fine mi sono impegnato anch'io ci ho messo del mio anche per imparare, per cercare di capire ho fatto tanti amici quindi ormai sono 16 anni che vivo in questa terra quindi credo che sia anche giusto imparare, capire un po' anche la cultura, il valore l'attaccamento che hanno i friulani per la lingua e per tutto quindi è una cosa importante. Invece parlando di calcio adesso arriva il Sassuolo, che tipo di gara ti aspetti? È una gara molto difficile, molto difficile di cui loro stanno giocando bene hanno sempre giocato bene già dall'anno scorso e quest'anno sono ancora più cinici quindi riescono a vincere anche quando non giocano bene però noi dobbiamo essere attenti, molto più cattivi rispetto alla partita contro la Roma perché secondo me sarà una partita più difficile che quella della Roma. Sarà una partita dove in difesa sarete davvero sotto pressione perché il Sassuolo punta molto sull'attacco, tanti attaccanti forti c'è anche Flore Flores, insomma una squadra, un ex come Flore Flores è una squadra davvero difficile da gestire e da affrontare. Sì, sono veloci, sono bravi e fanno partire l'azione dalla difesa quindi bisogna avere molta pazienza di non disunirci di cercare di essere squadra dall'inizio alla fine abbiamo saputo in queste gare soffrire abbiamo saputo anche giocare bene nella stessa gara quindi serviranno a tutte e due le cose. In questo Felipe 2.0 ti aspettavi già di stare così bene fisicamente soprattutto di essere già così decisivo per l'Udinese? Io sono stato fortunato di trovare uno staff veramente preparato mi hanno fatto lavorare nel modo in cui volevano loro ma comunque hanno ascoltato anche le mie necessità quindi questo è stato un punto a favore, mi ha aiutato tanto il fatto che Miss mi ha saputo dosare, mi ha saputo mettere nel momento giusto sono contento perché ci tenevo sinceramente alla prima partita quando sono uscito per i crampi avevo un'attenzione che non me lo sarei aspettato perché non so, ho più 250 partite in Serie A qua ne ho giocate tante quindi non me lo aspettavo e invece sono contento di come sta andando ma soprattutto perché l'Udinese a parte la sconfitta contro la Roma ha dato segnala di crescita non so, non so, non so